La Colussi licenzia 125 lavoratori del sito di Petrignano, 115 dei quali operai 5 impiegati e 5 dipendenti della Sogestia. È stato deciso questa mattina a Confindustria, a Perugia, le segreterie nazionali dei sindacati e il coordinamento dell'RSU del gruppo Colussi stabilimento Petrignano, Tavarnelle e Fossano ritengono inaccettabile quanto dichiarato dall'azienda e si oppongono con forza alla decisione che infierisce in modo drammatico sul territorio Ombro già colpito da altre vertenze. Nei prossimi giorni saranno convocate le assemblee in tutti gli stabilimenti.